Articolo dedicato a Andrea Cerioli e Arianna Cirincione La bella coppia uscita insieme da Scelta Uomini e Donne dove lui era il tronista e lei la sua corteggiatrice. Sicuramente ricorderete la scelta anticipata perché lui sentiva il bisogno di concludere anticipatamente il suo periodo dei trono in quanto aveva già compreso di essere preso della bella Arianna e quindi di non volere aspettare ulteriormente e posticipare la sua scelta. Questo accadeva gennaio e da allora i due hanno incominciato la loro storia d'amore. All'inizio andava veramente tutto a gonfie vele con messaggi e video d'amore pubblicati sui social network, tutto questo fino a giugno. Mese nel quale è accaduto qualcosa che non è stato ben chiaro. Ma che ha fatto sospettare tantissimi fans della coppia che fra di loro ci potesse essere qualche problema. In quel periodo Arianna e Andrea avevano già iniziato a convivere, ma lei per circa due settimane è tornata a casa sua e Andrea Cerioli è volato a Riccione. E i due hanno anche smesso in quel periodo di mandarsi messaggi d'amore via social. Tutto questo ha fatto pensare alle loro fans che i due avessero dei problemi di coppia. Oggettivamente Andrea Cerioli e Arianna Cirincione non hanno mai avallato questa ipotesi. E sicuramente da almeno un mese a questa parte hanno ricominciato tubare come due piccioncini. come testimonia l'ultimo messaggio che Andrea Cerioli ha scritto su Instagram. Andrea Cerioli sempre più innamorato della sua Arianna Cirincione gli scrive che è innamorato di lei. Non sono perfetto, ho tantissimi difetti, non li elenco perché potrei non finire più. Ed Arianna Cirincione scrive. Ti dirò una cosa, non sei perfetta neanche tu, lo sai vero. Però, bisogna pur scegliere qualcuno con cui complicarsi la vita, e insieme ci viene benissimo. E conclude dicendo che ti amo. Al che Arianna replica immediatamente. Sei un disastro e sono un disastro, ma ti amo da morire. E mi manchi tantissimo. Ci vediamo presto amore.